...è stato Menni con i demeriti dei suoi giocatori che a nostro avviso ci sembra che vi hanno dato tutto fino alla fine. Qual è il suo giudizio? Io per principio non giudico mai le altre squadre, giudico la nostra squadra e ritengo che noi abbiamo fatto male. Non si può affrontare una partita di questo tipo, con questo spirito e non va bene, non va bene per niente. Dobbiamo rendere gesto e subito, chi non ha il carattere per poter fare questo tipo di partita è meglio che se ne stia a casa. Questo è chiaro. Ha provato a inserire tutti gli attaccanti che aveva in panchina, alla fine non è venuto molto se non una rete a tempo scaduto. Sì, ma non è quello il problema. Il problema è che abbiamo perso un'infinità di contrasti, il problema è che in certe situazioni non siamo stati cattivi e questo chiaramente lo paghi. Noi dovevamo fare molto meno, giustamente i tifosi si sono arrabbiati, hanno ragione, noi dobbiamo solo chiedere scusa ma qui finisce. Da questo momento deve cambiare assolutamente il registro in ognuno di noi. Mister, che tipo di campionato è questo? Sì, è un campionato equilibrato dove tutte le partite si devono giocare alla morte e noi secondo me oggi non l'abbiamo fatto. Posto? Sì, nero è perfetto, ho detto tutto. Vabbè, poche parole. Per le dichiarazioni alla stampa, i tifosi che ancora sono di lato, l'hanno applaudezzo. Beh, questo fa piacere ma gli applausi non vanno a me, vanno ai ragazzi che danno l'anima in campo e oggi si è visto un gruppo coese, un gruppo forte, un gruppo compatto e oggi l'hanno dimostrato ancora una volta contro una grande squadra. Dall'altra parte c'era una fermata, da l'inizio del campionato che cercano di vincere il campionato, che cercheranno di vincere il campionato con giocatori affermati, giocatori di categoria. E penso che oggi l'hanno trovato davanti a un'ambiente in seguito a vita e a pugliosa di punti. Il gruppo si è visto, siamo andati ancora una volta in svantaggio e abbiamo recuperato. Quindi sono contento per i ragazzi e merito loro di tutta questa situazione. I successi aiutano anche durante la settimana? I giocatori con la mente sgombra, liberi, riescono a fare quello che il tecnico chiede? Beh, questo dipende perché molti giocatori pure quando si vince pensano chissà che cosa. Loro lo sanno che bisogna lavorare. Più uno lavora e più si ritrova più, diciamo, semina durante la settimana e più può raccogliere la domenica. Loro stanno facendo questo senza che nessuno sia mai lamentato, anzi si mettono tutti a disposizione. E ne sono veramente orgoglioso di questo gruppo che veramente sta uscendo, è un gruppo veramente importante. Applaudito dal Civitelle, sin dal suo ingresso in campo, magari la partita non è stata come volevate voi? Sicuramente, noi eravamo venuti qua per ottenere ben altro risultato. Però la partita è andata male, noi abbiamo giocato male, l'Agnonese invece ha fatto un'ottima partita. Merita quei punti che ha in classifica e non c'è nulla da dire di questa partita, niente da contestare perché loro hanno meritato. Qual è il problema principale, all'alto della sua esperienza, della sua squadra, in questione di atteggiamento, di umiltà? Sì, penso che noi abbiamo dei giocatori importanti in squadra e quindi l'unico problema deve essere quello, deve essere non tanto l'umiltà ma l'atteggiamento. L'atteggiamento quando entriamo in campo, bisogna avere un po' più, diciamo, non voglia di giocare, voglia di vincere, che è diverso. Da punto di vista della corsa, la fermana non ha primeggiato in molti tratti della partita? Penso di sì, l'Agnonese ha fatto una partita migliore della nostra, sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che tattico, della corsa, ma non è un problema di preparazione etnica, è un problema mentale nostro, quindi proprio di atteggiamento come ho detto prima. L'anno scorso era in forza l'Agnone, la squadra è cambiata molto, cosa è riuscito a carpire della squadra Granata dalla scorsa stagione a quella di quest'anno? È una squadra che, questa qui che ho visto oggi è una squadra che è formata da ragazzi molto giovani e che ha fame, si vede in campo, ha fame di far bene, di vincere, questo si vede in campo. Devo fare i complimenti a questa squadra, rispetto all'anno scorso, l'anno scorso noi abbiamo passato dei momenti un po' particolari, quindi forse paragoni non se ne possono fare, perché anche l'anno scorso avevamo un'ottima squadra. Nel giorno di ritorno, infatti, abbiamo fatto più punti, tranne quella della fermana proprio, più punti degli altri, ma siamo arrivati secondi, comunque era un'ottima squadra anche quella. Però questa, come diciamo, prima sensazione che mi dà in campo è che è una squadra che ha fame, che ha voglia, voglia di vincere e quindi si vede subito in campo. Grazie a tutti.